Bene, ciao e bentornato sui podcast di AIFE e oggi parliamo di come mettere bene a fuoco con la tua fotocamera. Ho gran parte degli obiettivi già dotato di un meccanismo per la messa a fuoco e l'impostazione standard, devi sapere, dell'obiettivo e della fotocamera è quella di messa a fuoco automatica e viene indicata nelle impostazioni dalla sigla AF. Impostazioni che in questo momento non ti invito a modificare e che potrai conoscere più avanti magari in un nostro corso di fotografia. L'uso della messa a fuoco automatica devi sapere che permette, grazie alla semplice pressione a metà corsa del pulsante di scatto, di avere correttamente a fuoco il soggetto che ci interessa. Ma purtroppo questa cosa non funziona sempre e a volte si rischia veramente di impazzire, soprattutto se si è alle prime armi e non si conosce bene ancora il meccanismo della messa a fuoco o l'area di messa a fuoco. Solamente in questi casi in cui fallisce voglio darti dei consigli su come mettere bene a fuoco e come utilizzare la messa a fuoco manuale, ricordandoti poi naturalmente di riposizionarla sull'impostazione automatica. È chiaro che in questo caso, nel caso della messa a fuoco manuale, la perfezione della messa a fuoco è assolutamente delegata alla tua vista, quindi spero che tu ci veda bene. Quando fallisce la messa a fuoco? Allora, non mi dite che non vi viene istintivo lanciare in aria la fotocamera quando non riesce a mettere a fuoco, quando sentite col rumore del motorino della messa a fuoco. Purtroppo la messa a fuoco della fotocamera non è infallibile, soprattutto se non è configurata oltre l'automatico in altre impostazioni scelte al fotografo e tutte le casistiche e le possibilità le esploriamo in aula con una serie di esercizi, ma vediamo insieme invece i due casi principali e come risolvere i problemi della messa a fuoco. Intanto ti ricordo che se vuoi padroneggiare la messa a fuoco e conoscere tutti gli aspetti legati alla fotocamera e alla fotografia, puoi scoprire il programma del prossimo corso di fotografia che sono due giornate di formazione e tantissime uscite fotografiche a sole 99 euro. Caso 1, parliamo del primo caso, se la zona o il soggetto che stai cercando di fotografare ha un colore uniforme e compatto, allora in questo caso la messa a fuoco che funziona principalmente per differenza di luminosità o contrasto non trova il punto di stop per bloccare la messa a fuoco in modo corretto. Immagina per esempio stai fotografando il tramonto e spesso e volentieri ci sono questi problemi della messa a fuoco perché il colore è uniforme e non c'è un punto di contrasto a meno che non inquadri proprio la differenza, il punto di contatto diciamo così tra il sole e il cielo. Oppure se stai fotografando magari qualcosa di compatto, di un colore, non so, un oggetto di colore rosso piuttosto che verde o qualcuno che ha addosso una maglietta che stai cercando di mettere a fuoco. Allora in questo caso naturalmente la messa a fuoco non funzionerà e il modo migliore per risolvere il problema è passare alla messa a fuoco manuale che è indicata dalla scritta MFM di Milano F di Firenze. Quindi devi andare nelle impostazioni della tua fotocamera, andare a cercare dove c'era scritto AF, fare un click su questa scritta e scambiare questa scritta AF con la scritta MF. In alternativa se il tuo obiettivo è dotato di una levetta laterale con scritto AFMF puoi spostare la levetta da AF a MF ricordandovi poi dopo lo scatto naturalmente di rimettere tutto a posto. A questo punto sei in configurazione manuale quindi puoi impostare tranquillamente l'obiettivo attraverso l'apposita ghiera che trovi proprio sulla parte frontale dell'obiettivo piuttosto che a metà circa dell'obiettivo puoi ruotare pian piano questa ghiera senza problema di rovinare l'obiettivo mettendo a fuoco correttamente il soggetto che vuoi fotografare. Vediamo il secondo caso. Secondo caso se il soggetto o la scena invece è troppo poco illuminato l'illuminazione cambia rapidamente non solo ad esempio in un concerto capita spesso che l'illuminazione cambia costantemente o il soggetto che vuoi riprendere è poco e scarsamente illuminato allora in questo caso il problema è simile al precedente sentirai un rumore fastidiosissimo del motorino della messa a fuoco ma nessun risultato positivo anzi se forzi lo scatto la fotografia verrà sicuramente non a fuoco. Come risolvere? Puoi attivare la luce pilota per esempio della tua fotocamera se il soggetto che stavi riprendendo è abbastanza vicino ad essere illuminato da questa luce pilota e lo trovi nelle impostazioni nel manuale della macchina fotografica basta cercare luce pilota oppure l'alternativa è quella di prima passare alla modalità di messa a fuoco manuale e regolare attraverso il tuo sguardo la corretta messa a fuoco della fotocamera. Ulteriori approfondimenti ti rimando al nostro sito piuttosto che al prossimo corso di fotografia e sono certo che non sbaglierai più uno scatto nella messa a fuoco. A presto!